Dunque, buongiorno a tutti, immagino che dopo questa presentazione più di qualcuno si sarà chiesto ma che ci fa un avvocato alla Maker Faire? Nel senso che me lo sono chiesto io quando mi hanno invitato ovviamente, nel senso che dovevo dare un senso alla mia presenza anche per evitare di farvi annoiare in questi minuti che trascorreremo insieme. E la risposta è stata ovviamente la prima e che probabilmente Stefano Emilio e gli altri organizzatori che ringrazio avranno sentito che qualche volta mi piace definirmi artigiano del diritto. Beh sì, è vero, provo ad utilizzare il diritto, soprattutto quello italiano che è particolarmente complesso e applicarlo al mondo delle tecnologie, perché di questo mi occupo da quasi 15 anni e tra l'altro quando prima sentivo che si parlava dell'imbianchino digitale io ho fatto una cosa non differente per quanto riguarda la mia professione ma in modo assolutamente inconsapevole, nel senso che io sono stato guidato come anima geek dal fatto che mi piacesse il web e mi piacesse utilizzare le nuove tecnologie e poi un po' di curiosità ha fatto il resto, quali sono le norme che regolano ad esempio le stampanti 3D perché è indubbio che se io posso stampare degli oggetti magari coperti da diritti di privativa magari qualche tipo di problema c'è oppure qual è la normativa che riguarda i droni o la normativa che riguarda le norme applicabili nel caso di incidenti che accadono ai veicoli senza conducente. Quindi questa curiosità mi ha spinto ad occuparmi di queste materie e l'esperienza però di questi anni mi ha fatto capire che in realtà sul diritto ci sono molte domande e alcuni falsi miti. Allora oggi il messaggio che io ho voluto lanciare col titolo del mio intervento è questo stai calmo e vai avanti nel senso. Questo è un cartello, non so chi di voi lo sa, questo è un cartello della propaganda del governo inglese del 1939 poi il volantino fu tenuto nei cassetti perché non serviva l'obiettivo era quello di infondere un messaggio di ottimismo al popolo che sarebbe stato da lì ai prossimi mesi sopraffatto dal pessimismo della guerra. E allora l'idea qual è? L'idea è o voi artigiani, piccoli imprenditori o professionisti che volete utilizzare le nuove tecnologie e quindi o voi anche makers potete farlo, basta rispettare alcune regole basta fare attenzione ad alcuni passaggi. Il sottotitolo un po' ridondante del mio intervento è questo le 5 cose che un imprenditore deve sapere delle leggi sul digitale per non farsi prendere dal panico. Perché questo tipo di preoccupazione? Perché nel corso di questi anni, ormai circa 15 che mi occupo di diritto delle tecnologie ho visto un paio di approcci che mi hanno molto disorientato. Il primo è questo, molte volte lo pensano anche i nostri politici vedete queste proposte di legge assolutamente sconclusionate che ogni tanto fortunatamente leggiamo solo sui giornali perché non possono diventare legge. Il mito per cui il web sia un far west, il regno di pirati, malfattori, delinquenti. In realtà non è così, il web non è un far west, esistono delle leggi che poi non siano le migliori del mondo. Questo è assolutamente indiscutibile, fuori di dubbio, ma del resto di legge perfetta forse ne esiste una per chi ci crede. E quindi esistono delle regole che possiamo applicare anche sul web. Quindi ci sono dei comportamenti aziendali, ma di aziende anche non necessariamente piccole non penso necessariamente al piccolo artigiano, sono quelli che prendono la foto che c'è sul web non si curano di verificare quale sia la licenza applicata, non citano la fonte la riutilizzano sul proprio sito, la utilizzano nei propri video, la utilizzano nelle proprie brochure anche digitali. E, come dire, fortunatamente, visto che il web non è un far west, a un certo punto arriva lo sceriffo e lo sceriffo può essere l'avvocato della controparte, cioè del soggetto che ha i diritti su quella determinata immagine, oppure può essere l'autorità giudiziaria nel caso in cui i comportamenti siano penalmente rilevanti. Penso al problema dei commenti che chiunque abbia un blog o un sito internet deve verificare. Non parliamo solo delle recensioni positive o negative, ma della degenerazione di insulti e diffamazioni in cui a volte si sfocia. Quindi il primo messaggio è che le regole esistono, dobbiamo soltanto capire quelle che si applicano al nostro business. Il secondo approccio che dobbiamo evitare è invece questo, cioè l'approccio del temporeggiatore, l'imprenditore che magari viaggia sui forum oppure va da un consulente che gli mette però più dubbi che certezze. E quindi quello del cartello lì alla destra, che non si può andare a destra, avanti, indietro. E quindi praticamente l'imprenditore ha paura che gli investimenti che fa anche in formazione, in tecnologie, quando utilizza questi nuovi strumenti poi di fatto non possano portarlo da nessuna parte perché lui di quegli strumenti non sa che farsene. A questo approccio rispondo con una frase di Thomas Fuller che dice chi vuole navigare finché non sia passato ogni pericolo non deve mai prendere il mare. Mi hanno insegnato che il vero imprenditore è quello che non si fa scoraggiare dal fatto che esista qualche criticità ma in grado di fronteggiarla. E allora cerchiamo di capire quali sono queste cinque regole, quali sono secondo me questi cinque punti. È ovvio che si tratta di una semplificazione ma per vostra fortuna ho solo altri dieci minuti e quindi non posso rubarvi più tempo. Le cinque regole sono queste. Innanzitutto quando abbiamo un'impresa, quando abbiamo un business occupiamoci di proteggere il nostro nome e le nostre idee. E questo può essere fatto sicuramente cercando di capire se qualcun altro ha utilizzato quel nome. Mi è capitato più volte di assistere dei team, magari degli start-upper, dei team di sviluppo che avessero un determinato nome, magari trovano il dominio.it libero. Peccato che quando andiamo a fare le ricerche per i marchi esiste qualcuno che dall'altra parte dell'oceano, quel marchio l'ha già registrato e se noi abbiamo intenzione di offrire un servizio non soltanto in Italia, questo potrebbe assolutamente danneggiarci. Dopodiché dobbiamo stare attenti ovviamente ai nostri domini, dobbiamo stare attenti a proteggere le nostre idee che siano app, che siano algoritmi, che siano gli oggetti che presentiamo qui alla Maker Faire e dovremo farlo con il diritto d'autore oppure dovremmo farlo con dei brevetti. Anche qui il web non è un far west. Dobbiamo sapere perfettamente che i nostri nomi sono tutelati, se qualcuno registra un nome di dominio o utilizza un nome utente sui social network corrispondente, immagino che insomma dopo l'imbianchino digitale altri imbianchini avranno tentato di fare il verso a quella iniziativa, dobbiamo sapere che questi comportamenti sono tutelati. Esiste ad esempio un'ordinanza del Tribunale di Torino su Facebook legata all'ex collaboratore che aveva registrato il gruppo Facebook dell'azienda, una volta cessato il rapporto di lavoro con questa piccola azienda, aveva cambiato il nome con il nome della sua e quindi aveva portato con sé, questo capita tante volte, tante piccole imprese ad artigiani che fanno registrare ad esempio al provider o a chi gli realizza il sito web il proprio nome di dominio e poi basta una fattura non pagata o pagata con ritardo per vedersi il sito disattivato oppure trasferito oppure con i prodotti di un'altra azienda concorrente. Quindi questo non è possibile fare, però è chiaro che se ci proteggiamo prima, se facciamo dei contratti che stanno in piedi, siamo assolutamente più tranquilli e sicuri. Il terzo, gli americani lo chiamerebbero tips and tricks, il secondo trucchetto a cui dobbiamo fare attenzione quando parliamo di business online è quello della riservatezza. Riservatezza sotto tanti punti di vista. Innanzitutto la riservatezza dei dati aziendali. Tutti pensano alle foto delle celebrities che sono state bucate sul cloud. Per carità, mi rendo conto che quello prende molti click anche da parte dei giornali. Ma pensiamo a quando scegliamo i nostri provider. Noi sulla base di cosa li scegliamo quando siamo imprenditori? Solo sulla base del criterio del prezzo più basso? Beh, probabilmente stiamo mettendo i dati aziendali, ci possono essere informazioni su privative, ci possono essere le informazioni sui nostri clienti, le stiamo dando in pasto a hacker, pirati o comunque a soggetti che potrebbero venirne in possesso e quindi darci un danno. Dobbiamo poi preoccuparci, se li abbiamo, della riservatezza dei nostri collaboratori. Non possiamo guardargli dentro la posta elettronica, ce l'ha detto più volte il garante privacy, dobbiamo utilizzare con grano salis la videosorveglianza, non possiamo inserire dei sistemi di controllo a distanza dell'attività del lavoratore, come vuole lo statuto dei lavoratori, il cui articolo 18 è sulle pagine di tutti i giornali. Ma dobbiamo stare soprattutto attenti ai dati dei nostri clienti, perché certo, clienti e potenziali clienti, quelli li abbiamo senza dubbio. Basta ad esempio un modulo per l'iscrizione ad una newsletter sul nostro sito web. Quello ce l'hanno praticamente quasi tutti, perché una volta che abbiamo l'utente dobbiamo provare a fidelizzarlo in qualche modo, almeno così mi hanno insegnato, perché io faccio sempre l'avvocato. E l'idea che ci possa essere un form in cui oltre all'iscrizione alla newsletter io faccio accettare una sola volta quel documento, quella cosiddetta privacy policy o informativa, ai sensi dell'articolo 13 del codice privacy, ebbene il garante privacy ha sanzionato più volte i gestori di siti web che quella informativa non l'avevano scritta bene, l'avevano scritta con il copia e incolla, perché l'avevano presa da un altro concorrente, oppure l'avevano scritta facendo riferimento a norme abrogate, oppure avevano chiesto il consenso per l'iscrizione alla newsletter e poi anche per l'invio di comunicazioni commerciali, quando invece la legge dice che l'informativa per il trattamento deve tenere separati il consenso che mi consente l'erogazione del servizio da quello per le ulteriori finalità. Si tratta di piccoli accorgimenti che però ci portano delle sanzioni rilevanti. Una omessa o mancata informativa espone l'imprenditore ad una sanzione da 6 a 36 mila euro. Quindi non aver visualizzato un solo documento espone il gestore del sito web a questo tipo di problema. Poi molti, terzo trucchettino, terzo step da seguire, molti imprenditori, tanti, lo diceva pure Eonetti prima, quelli che non sono chiusi a Pinterest, a Facebook e a Twitter, utilizzano i social. Il problema è capire come li utilizzano, perché altrimenti poi arriva Stefano Epifani e sul suo Tech Economy, vi andate a leggere sotto l'hashtag Epic Fails, tutta una serie di grandissimi casi in cui l'utilizzo dei social media si è rivelato addirittura controproducente se noi non li utilizziamo con costrutto. E qui dobbiamo stare attenti e predisporre due documentini. Il primo interno, che è la cosiddetta social media policy interna, quella in cui diciamo alla nostra struttura, se abbiamo dei collaboratori o dei consulenti, quali sono i contenuti da mettere, quali sono le regole da seguire d'ingaggio, se l'utente ci insulta non gli rispondiamo, ad esempio è sempre una buona regola quella di mantenere l'educazione, anche se è metà giuridica. Oppure quella per esempio di evitare di pubblicare sui social delle immagini che sono vietate dalle regole dei diversi gestori. Twitter recentemente ha introdotto delle nuove regole sulle immagini che vengono tollerate e quelle che no. Ma è molto importante anche la social media policy esterna, cioè quali sono le regole d'ingaggio che noi diciamo ai nostri utenti. Cioè è molto importante essere chiari, essere trasparenti, anche se siamo un'impresa e non siamo una pubblica amministrazione. Ve lo ricorderete probabilmente il caso l'Epic Fade della British Airways di circa un anno fa, in cui c'era un utente che provava a contattare il social attraverso l'azienda, attraverso i canali social, ma l'azienda non aveva detto che in determinati orari non ci sarebbe stata risposta e allora questo ragazzo per protestare ha acquistato un messaggio sponsorizzato ovviamente con l'hashtag British Airways che è diventato uno degli epic social media fails del 2013. Ovviamente sarebbe stato sufficiente inserire all'interno di una social media policy esterna. Attenzione, dalle ore 16 alle ore 9 del mattino successivo questi canali non sono presidiati, almeno ci saremmo evitati questo tipo di lamentela. Il quarto tema a cui dobbiamo stare attenti è quello, lo diceva prima, l'applicazione non sono riuscito a scaricarla ancora, ma ci proverò appena finito lo speech, è quello delle applicazioni. Molti hanno, creano applicazioni, dobbiamo stare attenti a due temi. Il primo, dobbiamo leggere le condizioni degli App Store per evitare che dopo aver sostenuto un investimento per pubblicare lì sopra la nostra applicazione, quell'applicazione venga rimossa perché violava le regole o violava delle condizioni contrattuali. Il secondo aspetto a cui dobbiamo stare attenti sono i cosiddetti user generated content. Chiediamo ai nostri utenti di caricare foto, immagini, di inserire delle storie. Ebbene, non so chi si ricorda che ad un'azienda che produce antistaminici, si chiama Benadryl, invitava a mappare le zone di Londra in cui i soggetti che avevano allergie ai pollini si trovavano più a disagio. Cosa è successo? Che Benadryl, nel fare il modulino in cui gli utenti potevano sottomettere queste storie, non solo non aveva previsto una moderazione, quindi tutto andava online senza che nessuno controllasse, ma soprattutto non aveva previsto che gli utenti della rete sono dei bontemponi e quindi c'è chi aveva inserito degli scherzi, chi delle foto non raccomandabili ad un pubblico di minori. Il quinto tema a cui dobbiamo stare molto attenti, e qui ci sono tanti che si occupano di commercio elettronico, c'è Luca Carbonelli che vedo qui, e quindi ci sono tanti esempi assolutamente virtuosi di come artigiani e piccoli imprenditori possono utilizzare questo strumento, dobbiamo stare però attenti a una serie di informazioni, innanzitutto stare attenti al marketing online, e quindi sapere che non ogni indirizzo che troviamo pubblicato sul web può essere destinatario dei nostri messaggi commerciali, perché quello si chiama spam. Dobbiamo sapere che dobbiamo rispettare le nuove norme sul commercio elettronico, ci sono delle norme comunitarie, alcune delle quali sono entrate in vigore nel giugno del 2014, e questo magari non interessa solo gli imprenditori, ma anche noi come consumatori dobbiamo sapere che abbiamo 14 giorni per il recesso dal ricevimento della merce, e se il gestore del sito non ha indicato che abbiamo questo diritto, noi abbiamo 90 giorni per fare il recesso, questo significa che da un punto di vista di gestione, il non essere consapevoli di queste norme ci può portare un danno proprio nella gestione ordinaria degli ordini del magazzino, con tutti i danni che questo può comportare. E poi abbiamo anche degli obblighi informativi, qualunque sito, anche un sito vetrina, deve contenere una serie di informazioni, tra cui il soggetto, la partita IVA, e tutta una serie di obblighi, la mancata esposizione e pubblicazione delle quali ci porta ad un danno con una multa di oltre 2.000 euro. Bene, io credo che queste cinque regole possano essere sufficienti per mettere un po' di chiarezza e andare tranquilli, perché se abbiamo superato questi piccoli paletti ce la possiamo fare. Attenzione però al metodo giusto, il metodo per risolvere le cose che ha detto l'avvocato Berisario, che dice facciamo l'informativa privacy, andare sul sito del nostro concorrente, copiare, sostituire soltanto il nome e pubblicarla sul nostro sito. Attenzione, questo è un tipo di metodo che ci crea molti più problemi di quanti ce ne risolve, innanzitutto perché noi stiamo dando per scontato che il nostro concorrente l'abbia scritta per bene e questo nella mia esperienza non è assolutamente scontato, ma poi perché, come diceva il grandissimo Pablo Picasso, i cattivi artisti copiano, quindi i cattivi imprenditori, i cattivi artigiani e i cattivi consulenti. Invece quelli grandi, i grandi artisti, i grandi artigiani, i grandi imprenditori, i grandi consulenti rubano, quindi vedono quello che fa la concorrenza, cercano di capire il perché ha impostato in quel modo la propria organizzazione anche giuridica e usano questi elementi per costruire qualcosa di innovativo, perché sì, e provo a spiegarlo a mia madre da circa 15 anni, anche il diritto può essere creativo e innovativo. Vi ringrazio per l'attenzione e se volete continuiamo a parlarne online. Grazie a tutti.